Dottor Palmas, denti horror, arcate dentali finite su impianti dentali, pazienti che hanno finito i lavori, che non vengono pulite, piene di tartaro, impianti con infezione attorno, rischio di perimplantite perdita dei lavori fatti all'estero. Ti ricordo che noi facciamo una parte del lavoro, ovvero facciamo la chirurgia e rimettiamo i denti ai pazienti, ma poi dopo è cura del paziente e obbligo del paziente averne cura e per mantenere la garanzia occorre fare il check semestrale a vita ogni sei mesi, non solo pulire a casa ma verificare al Policlinico di Bergamo con quello che si chiama check semestrale lo stato dei lavori. Questo che ti sto mostrando è lo stato di alcuni pazienti che hanno rifato i lavori, guarda tutto il tartaro, il catrame attaccato su questi denti, queste addirittura sono protesi messe dopo sei mesi, erano in questa condizione, queste macchie viola sono macchie di fucsina col colorante, col quale noi andiamo a colorare la protesi per far vedere al paziente dove va pulita meglio, guarda vicino alla gengiva qua tutto il tartaro che c'è attaccato sulla protesi, questo fa perdere gli impianti dentali, guarda qua il catrame che c'era attaccato su queste protesi, guarda qua in che condizioni si trova la protesi. Noi facciamo una parte del lavoro, eseguiamo la chirurgia, mettiamo al paziente i denti nuovi in bocca ma poi sta al paziente averne cura e ogni sei mesi, là dove lui non riesce, andare a fare quello che è il mantenimento al Policlinico di Bergamo. Abbiamo aperto in mezzo all'Europa una clinica apposta per questi pazienti che hanno fatto il trappianto completo, possiamo dire all'estero, dei lavori, ma è cura del paziente prendersi due giorni all'anno, uno ogni sei mesi, per andare a fare la revisione dei lavori. Non confondiamo, come ho detto tante volte in tanti video, l'autolavaggio con la revisione dell'auto. Sarebbe un po' come dire dopo cinque anni che compri un'auto, l'auto fonde il motore, la persona si meraviglia, dice caspita ho fuso la macchina eppure l'ho lavata ogni settimana. La portavi all'autolavaggio, la revisione è un'altra cosa. La revisione significa andare a verificare che non ci siano i problemi. Questa è la pagina dove puoi prenotare quella che chiamiamo check semestrale, che sarebbe la revisione dove andiamo in maniera professionale a verificare la checklist di lavori eseguiti, che non ci sia sangue, pus, tensioni, rotture sulla protesi, stato di mantenimento dei lavori. Andiamo a eseguire le foto con la fucsina che ti ho mostrato, quindi questo colorante viola che aiuta anche al paziente, permette al paziente di capire dove deve migliorare. Andiamo a eseguire anche una TAC 3D, non una semplice radiografia panoramica bidimensionale, ma andiamo a vedere in 3D sotto alla gengiva quello che è lo stato dell'osso attorno a ogni impianto dentale. I pazienti completamente trapiantati hanno molti impianti in bocca, bisogna vedere attorno a ogni impianto dentale quello che è lo stato dell'osso, onde evitare poi di dover rifare i lavori. E c'è anche l'autolavaggio, ovvero l'igiene, è una parte questo del check semestrale, ma bisogna fare durante la revisione tutta una serie di esami che ci permettono di poter rinnovare la garanzia. E' importante che la garanzia venga rinnovata dal centro che ha eseguito i lavori, perché abbiamo tutto l'interesse a mantenere i lavori. Se invece vai da un dentista qualunque, ti farà l'igiene dei denti, ma non gli fregherà nulla dello stato dell'osso, perché tanto non hai fatto da lui i lavori, quindi la garanzia non te la dà lui, te la dà Palmas all'estero. Quindi è importantissimo che prendi questa giornata ogni sei mesi della tua vita, onde evitare di buttare l'investimento economico, l'investimento anche fisico, che è fatto per sottoporti a queste chirurgie, registrandoti in questo form, che vedi qua in questa pagina, di cui troverai il link assieme a questo video che ti mando. E su questi pazienti che possono avere ancora delle infezioni, è possibile anche eseguire test batterico, tampone parodontale, che ci permette di vedere che batteri sono presenti in bocca, dare l'antibiotico corretto, tra i 6-7 che possono essere dati, e bloccare subito la malattia parodontale, o con curettaggio, o con laser che abbiamo a Bergamo. Evita di far passare tempo, anni, che possono portare poi alla perdita dei lavori eseguiti all'estero. Evita di arrivare in questo stadio dove ormai ci sono infezioni anche agli impianti dentali. Ripeto, un paziente che ha investito molto tempo, che ha comprato un Mercedes da magari 80.000 euro, sì, l'ha pagato 10.000, 12.000 euro, ma non significa che non sia un'auto sofisticata quella. E bisogna fare che cosa? I check semestrali per andare a verificare lo stato dei lavori in maniera professionale. Spendere 200 euro all'anno per un Mercedes dopo che si sono risparmiati 20-30.000 euro è una somma più che congrua da spendere, ma anche a livello di tempo, per andare poi a mantenere questi lavori molto costosi e sofisticati che avete fatto. Sarebbe un po' come andare a San Raffaele di Milano a fare il trappianto di fegato e poi non passare più per i controlli e andare a vedere che il fegato stia bene, ma appunto andare poi a fare i controlli dal medico di base sotto casa. Siete pazienti che avete fatto lavori molto complessi, è importante che abbiate poi vicino casa o in Italia o in centrale Europa un centro dove poter abbattere anche i costi del mantenimento. Infatti in questo pacchetto noi mettiamo tutta una serie di esami che superano di gran lunga il costo di 99 euro. Un'ATAC 3D vicino casa la potreste pagare anche 150 euro solo l'ATAC, senza l'igiene, senza le fotte, non vi farebbero comunque neanche il check dei lavori, per non pensare quanto costerebbe in Germania, in Svizzera, anche 500 euro può costare un'ATAC. Avete i voli Ryanair-Witzer per Bergamo con andata e rientra in giornata, bisogna solamente iscriversi in questa pagina, prendersi il tempo per andare a evitare che ci siano poi questi grossi problemi a carico dei lavori che avete fatto all'estero. E' cosa buona quindi fare il mantenimento obbligatorio. Un paziente completamente trapiantato è un paziente che poi deve avere cura dei lavori che ha fatto. Noi vi diamo tutti gli strumenti, sono a vostra esposizione, il Policlinico di Bergamo sta lì per quello, rispetto a altre cliniche che non danno questo servizio, usatelo, prenotate quindi il check semestrale.